allora ben trovati buona vigilia questa sera cuciniamo un bel pacchero alla rana pescatrice abbiamo qui sul tavolo un bel filetto lo andiamo un attimino a tagliare a piccole porzioni e poi vediamo un pochettino i vari passaggi per fare il nostro pacchero eccellente per la vigilia ecco qua il nostro filetto ok lo vediamo bello bello così veramente una bella ecco qui l'abbiamo sfilettata e andiamo a fare un pochino di brodo di pesce con un pochino d'aglio abbiamo il nostro prezzemolo in questo caso solo un gambo abbiamo tagliato la parte della della spina dorsale metteremo un pochettino di acqua e olio qua all'interno poi facciamo un pochettino bollini mettiamo sul fuoco non ci rimane a questo punto che andare a tagliare i nostri pezzetti a pagadini per quanto riguarda i pesci e andiamo adesso a soffriggerli andiamo a mettere un bel po d'olio così cominciamo a mettere il nostro un pochettino ovviamente seguiamo sempre un po la cottura e andiamo a girarlo non ci vuole tanto un pesce comunque che si fa velocemente nei primi passaggi cerchiamo di non farlo attaccare si comincia a sentire il vino che è evaporato continuiamo il nostro percorso allora come vedete il sugo sta andando avanti nella sua cottura si sta ritirando abbiamo a disposizione eventualmente un pochino il brodo di pesce ma non lo consiglio preferiamo magari mettere un pochino di acqua di cottura allora la cottura del sugo sta andando a tutta birra perfetto senza nessun problema fa un pochettino lo stacchiamo perché poi lo lasciamo posare un pochettino e naturalmente con l'acqua di cottura andandolo poi ad amalgamare magari andremo un pochettino ad aggiungere qualche bicchierino da caffè o anche meno secondo se è troppo il sugo se è purtroppo ritirato o se ha bisogno di essere un pochettino allungato naturalmente mantiene l'amido l'acqua di cottura e quindi si legherà maggiormente il condimento alla pasta nell'amalgamatura leveremo il pacchero un paio di minuti prima proprio per farlo cuocere un pochino in petola insieme al condimento mettiamo una pasta buona perché è da lì che normalmente prende il sapore e il gusto al piatto in questo caso l'acqua bolle e niente mettiamo giù la pasta in base alla grammatura e le quantità di persone cottura consigliata per il pacchero stiamo intorno ai 14 minuti la toglieremo un paio di minuti prima e comunque la controlleremo perché la facciamo saltare in padella qua alla fissicatura ok ok vediamo un attimino come è venuto va la padella ecco qui il sugo completamente ritirato andiamo ad impiattare ragazzi il profumo eccezionale questo è il piatto della vigilia e niente buon natale a tutti buone feste da katakata è tutto al prossimo piatto ciao 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 ciao